signore e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti di nuovo ancora ben ritrovati qua nel solito usuale disordine della mia libreria allora 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 cari signori questa sera mettiamola così video per stomaci forti perché parliamo nuovamente di quello che combinarono in cina i nostri amici giapponesi allora come già sapete la bandiera da combattimento della marina nipponica qua dietro è il ricordo di un caro amico che è morto tanti anni fa in un incidente di moto con questa bandiera noi andavamo ai motoraduni e per e lo ripeto per l'ennesima volta per fare un dispetto agli arleisti fighetti le montava montavamo questa bandiera sopra le nostre tende per ritrovarle subito e soprattutto per farci riconoscere vabbè e questa bandiera ripeto è soltanto il ricordo di un di un amico che non è più con lui tutto allora 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 cari signori in tanti mi hanno chiesto di parlare della cosiddetta unità 731 ovvero sia l'unità sperimentale dell'esercito giapponese in manciuria nella quale sono stati commessi atroci crimini di guerra contro la popolazione civile locale per fare esperimenti di vario tipo sulla guerra batteriologica sulle armi chimiche su svariate mettiamola così insomma su svariati esperimenti che definire terribili è poco allora questa cosiddetta unità 731 era come dire operò dal 1936 al 1945 in manciuria e nella cina nord orientale principalmente nel campo scusate di ping fang nel nord est della città cinese di harbin che all'epoca era parte del governo fantoccio del manciupuo allora agli ordini del generale shiro ishi l'unità era ufficialmente destinata a studiare e a produrre sistemi per la purificazione e la dell'acqua in realtà studiava e testava armi chimiche e biologiche in violazione del protocollo di ginevra che il giappone aveva firmato nel 1925 e praticamente tra il 42 e il 45 migliaia di prigionieri cinesi donne e bambini inclusi ma c'erano anche mongoli coreani russi e anche alcuni anglo americani che erano stati catturati furono usati come cavie in diversi esperimenti la finalità di questi terrificanti spaventosi esperimenti era duplice cioè sperimentare armi batteriologiche da usare contro il nemico e sperimentare anche nuove tecniche terapeutiche sui prigionieri sottoposti a contagio per poter guarire meglio i soldati giapponesi malati o feriti allora l'unità 731 fu responsabile di alcuni dei più atroci bestiali terrificanti crimini di guerra commessi dai militari giapponesi ma pochissimi di loro pagarono per i loro crimini una decina furono processati nel 1949 da un tribunale sovietico ma buona parte degli altri diciamo se la passò in cavalleria perché a quanto pare a quanto pare gli americani incamerarono i risultati delle ricerche giapponesi e si portarono via molti degli scienziati per modo di dire che avevano combinato questo mattatoio a darwin e l'unità 731 era un programma segreto di ricerca e sviluppo di armi batteriologiche chimiche dell'esercito giapponese e andò avanti praticamente dal 37 al 1945 insomma si parla le cifre variano ma si parla che l'unità 731 sterminò dalle 2000 alle 25 mila persone durante dieci anni di attività con questi esperimenti senza poi contare tutti i morti fatti con le epidemie indotte secondo la maggior parte degli studiosi il numero di cavi e ripeto il numero di cavi che furono coinvolte andava dalle 3000 alle 12 mila unità ma qualcuno non so fino a che punto esagerando siamo sinceri e ha sostenuto che il numero di vittime dell'unità 731 si possa spingere fino alle 200 mila e c'era dire anche che l'unità 731 non fu neanche l'unico reparto di ricerca scientifica a macchiarsi di questi atroci crimini c'erano altre unità di questo tipo in cina la 516 la 543 la 773 la 100 la 1644 a nanchino la città martire per antonomasia della cina durante la seconda guerra mondiale e sappiamo noi quello che ci succede poi c'erano anche l'unità 1855 la 8604 la 200 e la 9420 insomma un qualcosa di terrificante cioè fate conto l'unità 731 come dire utilizzò il termine operazione maruta che vuol dire pezzi di legno perché ufficialmente la sede della 731 era una segheria insomma vabbè che vi devo dire praticamente ci furono furono effettuati allora vi faccio un breve elenco furono effettuati esperimenti di vivisezione su esseri umani senza anestesia e la vivisezione era effettuata su prigionieri infettati da diverse malattie fatti infettare dai giapponesi di diverse malattie i giapponesi effettuarono interventi chirurgici nei prigionieri eliminando organi per studiare gli effetti delle malattie sul corpo umano queste sperimentazioni furono effettuate mentre i pazienti erano ancora vivi in quanto si riteneva che il processo di decomposizione avrebbe alterato i risultati le persone infettate e poi sottoposte a vivisezione erano senza distinzione di genere uomini donne bambini neonati e e quant'altro e le vivisezioni furono effettuate anche su donne incinta spesso messe incinta violentandole dagli stessi medici giapponesi ci furono anche dei terribili esperimenti di congelamento con successiva amputazione o successivo scongelamento per analizzare gli effetti della cancrena usavano io non riesco neanche a descrivere questa cosa usavano l'idrogeno liquido vi rendete conto? congelavano vivi con l'idrogeno liquido a meno 230 le persone e poi le scongelavano per vedere che cosa succedeva con la cancrena non curata questi esperimenti si accompagnavano anche a esperimenti di escissione dello stomaco del fegato, dei polmoni e di altri organi molte persone furono usate come bersagli umani per provare granate insomma per provare l'effetto degli esplosivi posti a varia distanza e in posizioni differenti gli esseri umani furono usati anche come cavie per il lanciafiamme altre persone furono usate come legate a dei pali furono usate come bersagli per provare bombe batteriologiche chimiche ed esplosive inoltre ci furono prigionieri infettati con sieri contaminati con agenti patogeni per studiare i loro effetti per valutare che cosa succedeva in caso di malattie venere non curate uomini e donne furono deliberatamente infettati con sifilide e gonorrea e successivamente studiati i detenuti furono infettati anche con le pulci al fine di valutare la possibilità di una guerra batteriologica la peste la peste parassiti vestiti infetti e alimenti contaminati furono gettati su vari obiettivi militari insomma furono usate come bombe come una volta si gettavano i cadaveri dei malati di peste nelle città assediate con la catapulta i giapponesi fecero la stessa cosa con gli aerei gettando su città villaggi paesi zone abitate cinesi parassiti vestiti infetti e alimenti e sembra allora io non ho dati sicuri perché ho recuperato come dire un vecchio un vecchio ebook che mi ha prestato un amico insomma un ebook che mi ha prestato un amico dicevo i detenuti scusate scusate cioè ve l'ho detto faccio veramente fatica a parlare per 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 sto schifo ci siamo sinceri allora allora dicevo molte zone abitate cinesi furono bersagliate dagli aerei con vestiti infetti alimenti contaminati parassiti eccetera e le epidemie di colera antrace e peste bubonica peste bubonica sembra sembra che causarono la morte di almeno 400.000 cinesi allora la 731 e le sue unità affigliate cioè tutte quelle che ho elencato primo superarono la fase di prova delle armi biologiche e portarono a termine attacchi biologici contro la popolazione cinese durante la seconda guerra mondiale le pulci infettate con la peste allevate nelle installazioni della 731 e della 1644 furono disseminate con aerei ripeto furono sparse con degli aerei su località cinesi come per esempio le città di Ningbo nel 1940 e Changde nel 1941 questo produsse una epidemia di peste bubonica che uccise migliaia di persone e non si è mai saputo quante di preciso venne studiata sui civili cinesi venne studiata la tularemia alcuni prigionieri furono appesi a testa in giù per osservare quanto tempo impiegavano a crepare di asfissia ad alcuni prigionieri fu iniettata urina di cavallo nei reni altri furono fatti morire di fame per verificare il tempo che ci voleva a crepare di fame e di sete alcuni altri prigionieri furono posti in camere dove si creava il vuoto fino a morire altri esperimenti sempre su persone furono realizzati per stabilire che relazione c'era tra temperatura ustioni da freddo e sopravvivenza umana altri prigionieri furono posti in una sorta di centrifuga fino a morire ad altri ancora fu iniettato sangue animale per vedere che succedeva altri furono irradiati con dosi mortali di raggi X sempre per vedere che succedeva e ancora mi state a parlare dello scandalo, della vergogna, del crimine che furono le bombe atomiche e le radiazioni vabbè, 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 vabbè non mi fate essere cattivo allora soggetti umani, inoltre, soggetti umani furono usati come cavie per svariate armi chimiche in camera gas fu indotta l'embolia iniettando bolle d'aria nel flusso sanguigno di prigionieri cioè per simulare l'embolia gli iniettarono siringhe vuote, l'aria, nelle vene per simulare gli effetti dell'embolia addirittura per vedere se si poteva usare l'acqua di mare come sostituto delle soluzioni saline si iniettò acqua marina a delle cavie umane e furono testati anche altri esperimenti atroci cioè ripeto, peste bubonica, colera, vaiolo, botulino antrace, febbre tifoidea, colera insomma cose spaventose cioè cose veramente spaventose cioè il comandante il tenente generale medico Shiro Ishi se la cavò con poco o nulla se la cavò perché praticamente dopo come dire una breve come dire detenzione fu usato dagli americani per le loro ricerche perché i dati paradossalmente molto di quello che sappiamo su certi effetti del freddo e del caldo estremi e delle malattie infettive sul corpo umano per quanto che faccia schifo lo sappiamo e fa schifo questa cosa lo sappiamo grazie all'unità 731 e cioè si calcola ripeto si calcola che i morti fatti tra gli esperimenti e tra gli attacchi chimici e batteriologici fatti dai giapponesi in Cina si calcolano che abbiano ucciso più di 540.000 civili cioè è una cosa spaventosa se se ci si pensa cioè io allora io non sono propriamente uno che ha lo lo stomaco non sono uno che ha propriamente lo stomaco debole anzi però a leggere certe cose insomma non è propriamente bello leggere anzi anzi ci si rende conto veramente di quanto in basso possa scendere l'essere umano in nome di certe ideologie deliranti cioè ripeto i giapponesi in Cina ne hanno fatto veramente ne hanno fatte veramente di tutti i colori ripeto c'è una festa nazionale non ufficiale in Cina e in Corea una festa nazionale non ufficiale ripeto che coincide con lo sgancio delle atomiche americane sul Giappone chiediamoci perché in Cina e in Corea qualcuno brinda a Little Boy e a Fat Man vabbè che vi devo dire comunque sia se ne volete sapere qualcosa di più l'unico libro che ho ritrovato in italiano si intitola Unità 731 scritto da Rosanna Carne io l'ho letto su ebook me lo ha passato un amico ci sarebbero anche come dire i libri di Sheldon Harris e soprattutto quello intitolato Factories of Death Japanese Biological Warfare 1982 1945 and the American Cover Up ci sono anche delle ricerche inglesi che soprattutto come dire come dire parlano di questa storia dell'unità 731 cioè ragazzi io vi dico la verità cioè io non sono mai stato propriamente tenero con i dittatori con i fanatici e con i criminali ma qui superiamo veramente veramente superiamo ogni limite di delinquenza ogni limite di follia ogni limite di criminalità in nome della loro presunta superiorità razziale perché ricordiamoci una cosa i giapponesi essendo sudditi del divino imperatore si considerano leggermente superiori a Dio perché sono sudditi di un Dio ok e questa cosa li fa considerare cinesi coreani russi americani inglesi li faceva considerare né più né meno come sorci mosche animali esseri infimi e inutili che avevano la loro utilità soltanto come cavie per questi orrendi esperimenti esperimenti che fanno veramente gelare il sangue nelle vene e non solo perché usavano l'idrogeno liquido scusatemi la battuta cioè scherzi a parte io io veramente non so che cosa dire cioè si tratta di una pagina nera della storia dell'umanità peggio che nera peggio che nera si tratta di una pagina terribile si tratta di un crimine a dir poco spaventoso io sono noto per fare battutacce sulla qualunque ma cioè insomma non ho molta voglia di scherzare su questi argomenti siamo sinceri perché c'è poco da scherzare perché si tratta veramente di una delle bestialità più atroci mai commesse nella storia dell'umanità l'unità 731 e i reparti omologhi che agirono nel corso della guerra dal 37 al 45 sul suolo cinese non so neanche se possono essere definiti criminali se possono essere definiti delinquenti se possono essere definiti pazzi folli mostri 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 chiamiamoli mostri chiamateli come volete cioè io io non so neanche come cazzo definirli cioè gli americani li hanno coperti perché oggettivamente gli servivano molti dei macellai chiedendo scusa ai macellai anche Babbo da giovane fece il mestiere del macellaio se avevo quei 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 mostri dell'unità 731 molti continuarono la loro carriera accademica rimanendo come dire venendo onorati e rispettati e accumulando anche notevoli fortune grazie proprio alle ricerche fatte con l'unità con l'unità 731 bella roba bello stomaco il generale Ishi morì nel 1959 di cancro ma che vi posso dire spero che abbia sofferto più di questo non credo che ci sia a dire spero che abbia spero che abbia sofferto veramente tanto glielo auguro di cuore perché un mostro simile io non credo che possa essere definito altrimenti cioè se Oscar Paul dirle valonger e Bronislav Kaminsky furono due sanguinari due mostri due luri di figuri che si macchiarono di bestialità atroci dalla pedofilia alla pedofilia necrofilia cannibalismo violenze assassini stupri e quant'altro sono stati definiti Kaminsky ed Irle Wanger sono stati definiti gli uomini più crudeli della seconda guerra mondiale ma per quanto che sia per quanto che siano personaggi abominevoli e rivoltanti non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli a quelli dell'unità 731 e a quelli delle unità similari che ho che ho elencato prima io che vi posso dire scusate ma non mi va a discarzare minimamente su certi argomenti ripeto non ho non penso ci sia molto da dire l'unità 731 fu un crimine terribile ancora più criminale fu chi li coprì ancora più criminale fu fu una società che permise a quei a quegli abominevoli esseri di fare carriera dopo la guerra e di accumulare ricchezze usando proprio i dati scientifici raccolti in quel in quel in quella anticamera dell'inferno trasportata in manciuglia non credo ci sia altro da dire quindi cari signori io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione scusate se non ho fatto ironia o battute ma non mi sembrava proprio il caso signori non mi sembrava proprio il caso e vabbè vi ringrazio come sempre per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video buonanotte ciao